Buongiorno, buongiorno fuori Tg, tutto quello che ha a che fare concretamente con la nostra vita di tutti i giorni. Allora, questa crisi che purtroppo si rivela sempre più acuta costringe moltissime famiglie italiane a tagliare, a tagliare sui costi. Ormai da tempo sono stati eliminati i beni superflui e siamo arrivati già anche ai beni di prima necessità. Però ci sono cose che proprio non si possono tagliare, specie quelle che hanno a che fare con i nostri figli. Io prendo 1000 euro di segno e mia moglie 1000, sono 2000, rientriamo fra i ricchi, quindi non c'è nessun aiuto per i libri, ma è vero perché quando me levi 500-600 euro, in più ci metti il mutuo eccetera, ti trovi con le mutande insomma. Per tutte le materie è 200 euro minimo. Avete comprato dei libri usati? Sì, li compriamo tutti gli anni i libri usati. Quanto avete speso? Beh, se tutti i nostri libri insieme nuovi costano 300 euro, noi sicuramente ne spendiamo neanche 200. E allora, il problema gravissimo di questo periodo per molte famiglie italiane è quello del costo salato, salatissimo dei libri scolastici, senza poi contare tutto il resto del corredo. Insomma, questo è anche un altro discorso. Come purtroppo succede ogni anno, viene superato il tetto posto dal Ministero della Pubblica Istruzione per il tetto massimo, per il costo dei libri. Per le superiori 450 euro si spenderanno, si spenderanno quest'anno con un tetto previsto di 370. E diciamo, nelle scuole italiane, che sono come si vede in rivolta dagli studenti agli insedienti precari, ai ricercatori, ieri abbiamo visto anche i presidi, i rettori universitari, forse presto ci sarà anche una rivolta dei genitori, che proprio non ce la fanno più a sostenere questi costi. Ma ci sono degli istituti, insomma, dove si cerca di guardare avanti. Questo lo vedremo tra poco. Adesso andiamo a vedere sul costo dei libri. Sentiamo Anna Frangione. I libri aumentano ogni anno, cambiano le edizioni, è un po' scandaloso. Per una classe di dici si viene a spendere sui 400-500 euro. Si spende troppo per i libri scolastici, lo denunciano i genitori, lo ribadiscono alcune associazioni di consumatori, secondo cui i tetti massimi di costo indicati dal Ministero dell'Istruzione vengono spesso superati. Per le scuole medie la spesa per i testi scolastici non dovrebbe superare i 286 euro, per le superiori i 370 euro all'anno. E allora non resta che ricorrere ai libri usati, dal baratto organizzato dai genitori ai mercatini, tante le iniziative per scambiare, vendere e acquistare. C'è qualcuno che deve chiedere per le superiori? Si risparmia, si pagano il 50%, quindi rispetto al prezzo pieno, poi sono in ottimo stato, ormai anche i ragazzi li conservano sapendo di poterli anche rivendere dopo. Sono sempre meno i genitori che scelgono i libri nuovi, si limitano a farlo quando non trovano quelli usati. Non ci sono dati precisi, ma secondo le stime dell'Associazione Italiana Editori si è arrivate ad un 30-40% di persone che scelgono l'usato e per rispondere a questa nuova tendenza in molte librerie accanto al banco dei libri nuovi c'è anche una sezione per acquistare e vendere l'usato. Abbiamo comprato un po' sui libri usati e abbiamo risparmiato circa il 50%. In tutto quanto ha speso fino a ora? In tutto siamo sui 300, perché l'ammontare totale, compresi i vocabolari, è circa sulle 500-600. Finora avremmo speso 90, però dobbiamo comprarne ancora altri. Nuovi o usati? Usati. Usati. Dunque avete visto anche comprando usato si spende molto, moltissimo. Allora, come prima cosa andiamo nella nostra cantina dove c'è la postazione internet con Silvio Giulietti. Buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno Maurizio. Oggi apriamo con l'annuncio di una nascita, un fiocco rosa possiamo dire al TG3, perché da ieri è disponibile l'applicazione del TG3 per iPhone. E diventiamo così il primo telegiornale della RAI a sbarcare su questo dispositivo. Quest'applicazione darà modo ai nostri utenti di informarsi con il TG3 anche quando si trovano lontani dal televisore o dal computer. E ci vedono anche col telefonino, siamo implacabili. Siamo implacabili, prossimamente avremo anche fuori TG e linea note disponibili sul telefonino. Mamma mia. Un po' alla volta ci arriviamo. Comunque terminata l'autopromozione arriviamo alla domanda di oggi che i libri scolastici che hai comprato quest'anno sono tutti nuovi, nuovi e usati o solo usati? E sentiamo dopo per risultare. E' interessante sapere insomma come si muovono le famiglie. Con noi oggi Marco Lodoli, sapete scrittore di successo, che non ha mai abbandonato il suo mestiere di insegnante. Insegna in una scuola della periferia romana, la Giovanni Falcone di Torre Maura. E quindi insomma esperienza proprio, testimonianza sul campo. E poi il nostro amico Rosario Trefiletti, presidente di Feder Consumatori. Buongiorno. Allora Trefiletti, cominciamo con lei. La questione di fondo è che non ci si capacita, soprattutto in periodi di crisi come questa. Sui libri proprio non si riesce a trovare una soluzione. Ogni anno il prezzo aumenta sempre di più. I genitori sono costretti a questi libri usati, cercare... Ma vediamo che anche qui i costi sono sempre altissimi. Perché? Questo è un problema strutturale che appunto va superato. E anche noi ci domandiamo perché. Beh, perché c'è la voglia di guadagnare, questo è evidente. Allora, intanto partiamo dalla considerazione che faceva prima. E cioè non c'è solo il costo dei libri elevatissimo, e diremo, ma c'è anche il costo del corredo scolastico, dagli astucci, penne, quaderni e via dicendo. Beh, insomma, la cifra per una famiglia italiana a settembre-ottobre alla ripresa, in buona sostanza si avvicina a oltre 900 euro tra la spesa dei libri e la spesa del corredo scolastico. E poi quei soldi che bisogna dare alle scuole, perché ormai tutti i genitori sono costretti ai soldi anche per la carta igienica, insomma, per... Ahimè, questo è vero. Per il sapone. Per il sapone. Quindi noi siamo di fronte a una spesa annuale che si aggira attorno a quelle cifre di 460-500 euro. Non tutte le famiglie, e il dato lo diceva, il filmato, della percentuale di chi può prendere i libri usati. Attenti, non si arriva oltre il 30%, anche perché qui ci sono a volte delle contraddizioni. Molti insegnanti o molte scuole non vogliono che si comprino delle edizioni che magari non sono le ultime edizioni. E allora, e qui c'è il problema, che per esempio l'ultima edizione è quella che cambia rispetto alla vecchia solo per la copertina, solo perché c'è un capitolo un pochino modificato. Questo è un punto strutturale, ad esempio, che noi vorremmo risolto una volta per tutti. Ecco, sentiamo l'odoli su questo. È possibile che si deve cambiare un libro anche perché cambia una pagina, un riferimento? Sì, è vero. Io vedo nell'armadio, nella piccola biblioteca che abbiamo lì a scuola, veramente ci sono centinaia di antologie scolastiche d'italiano. Per esempio io consulto alla ricerca di un racconto, di una cosa del genere, ma a volte mi chiedo come mai così tante. Sono state offerte adottate in certi casi e quindi hanno creato soltanto confusione, anche se poi uno va a vederle dentro, più o meno sono tutte uguali. Il problema grave è che la gente non spende mille euro, non ne spende cinquecento, ma non ne spende neanche cinque, nel senso che i libri poi alla fine non li comprano. Il problema è questo, io faccio lezione, poi a Natale ancora nessuno ha i libri o pochissimi hanno i libri. Poi ricordiamoci quelli che comprono i libri con il buono che arriva dalla scuola per renditi che prima erano fino a 8.500 euro, adesso mi sembra sono un po' superiore ai 10.000 euro l'anno. Quindi gente che se la passa male, che aspetta il buono per comprare il libro e poter, così, l'ambecedario di Pinocchio per andare a scuola. Questa però è una cosa grave che ha detto, nel senso che tanti ragazzi i libri poi non li comprono, si arrangiano, vanno a studiare a casa di amici. Oppure qualche fotocopia, a una scuola gli leggi le cose, t'arrangi, però insomma certe materie come appunto la letteratura, cioè se uno non è davanti la poesia da leggere è difficile poi capirla, no? E così via. Lodoli, le chiedo, insomma, però in questa situazione di emergenza, chiedo anche poi a Trefiletti, perché gli insegnanti stessi, anche le scuole, non prendono iniziative fantasiose? Ad esempio ho letto di una scuola di dove? Di Caltanissetta, mi sembra, che compra i libri e poi li affitta ai ragazzi, no? Per vari anni, no? Cercando di responsabilizzarli per non farli rovinare, no? Quindi con 50 euro i ragazzi hanno i libri per tutto l'anno. Forse bisogna buttarsi sulla fantasia, ma insomma in questi casi sarebbe meglio avere forse più realtà e meno fantasia, cioè che ogni ragazzo abbia i suoi dieci libri per affrontare l'anno scolastico, insomma, è cosa che non sempre accade. Io sono proprio per mettere in campo proprio una serie di tasti per poter rispondere alle esigenze degli studenti e soprattutto per evitare quello che adesso il professore ha detto, una cosa allucinante, che ci siano degli studenti che non abbiano il libro. Allora, innanzitutto, libro usato, e quello abbiamo detto con quella modificazione che dicevamo sulle nuove edizioni, che non ci siano appunto queste storie per cui serve solo la nuova edizione con quel tipo di copertina. E allora spazi sul libro usato. Attenti, questo è un dato positivo. Adesso la domanda e l'operta non è solo nei mercatini, noi chiediamo a spazi sempre maggiori da parte dei sindaci, ma anche internet viene utilizzata per la domanda e l'operta sui libri usati. Terza cosa, c'è la questione appunto del prestito. Molti istituti devono acquistare libri e poi darli in prestito. È una richiesta che noi facciamo da anni, ma anche le biblioteche. La scuola deve avere la biblioteca, il ragazzo che magari non ha il libro per motivazioni più disparate, possa andare almeno a studiare nella biblioteca su un testo. E poi c'è tutta la problematica del libro elettronico. Lo vediamo, la nuova frontiera, il passaggio dei libri elettronici, come del resto sta avvenendo anche per tutti gli altri libri, per la narrativa, per i romanzi, progressivamente. Qui, diciamo, con i ritardi della nostra scuola, con gli investimenti che si fanno sull'istruzione, diciamo stiamo parlando di fantascienza probabilmente, però ci sono alcuni istituti che cominciano già a incanalarsi in questa nuova strada. Allora, andiamo a vedere. Aprite il libro a pagina 6. Il testo scolastico si sfoglia e si studia sul computer. I contenuti sono scritti dai docenti, sono aggiornabili continuamente e condivisi in rete con 14 scuole che aderiscono al progetto Book in Progress, lanciato da questo istituto tecnico di Brindisi. Poi i nuovi libri elettronici vengono trasferiti su tutti i pc portatili dei ragazzi. Il touchscreen è molto intuitivo come uso ed è anche divertente usare la scuola. Cioè, l'abbiamo usato, però mai così con i libri all'interno. C'è anche un modo nuovo di vedere la scuola. Appello a Dio, arriva il tesserino elettronico e il nuovo registro di classe digitale. Il docente può non solo quindi verificare le presenze dei ragazzi, ma aprire anche il suo registro quindi personale, mettere voti e novità anche assoluta di questo tipo di sistema, la possibilità eventualmente di poter inviare un sms alle famiglie qualora avessi necessità di parlare direttamente con i loro genitori. E sono molte le applicazioni possibili su questa piattaforma tecnologica, persino la lezione è filmata per chi è assente. Qualcuno che sta in classe registra la professoressa mentre spiega e il video si manda agli alunni assenti. La famiglia spende 383 euro per un computer che servirà per i 5 anni di scuola. Le cartelle e i zaini sono decisamente più leggeri, ma il vecchio libro cartaceo non è sparito del tutto. Viene utilizzato dai ragazzi per lo studio a casa. Libri di testo scritti direttamente dai docenti, senza diritti d'autore, dati alle famiglie solo con un contributo che serve per coprire i corsi di stampa. 35 euro per la dotazione libraria che normalmente costa intorno ai 400. Qui stampiamo tutti i libri del Book in Progress, non solo per il Majorana di Brindisi, ma anche per le scuole che aderiscono alla rete. Ebbè, caro professor Lodoli, insomma, io immagino che lei, in quanto scrittore, stavolta come professore, amante del libro, storca un po' il naso pensando ai libri elettronici, però abbiamo visto che è un bel passo in avanti. No, no, ma è chiaro che uno parte avendo più di 50 anni, il pregiudizio è negativo, no? Però uno deve anche superare i propri pregiudizi e capire poi come stanno le cose. L'anno scorso una ragazza mi ha detto, una di 14 anni, mi ricordo, mi guardò negli occhi e mi disse, professore, ma i libri così come sono, sono vecchi. E io per la... quante volte ho sentito dire, professore, i libri fanno schifo, non mi piaccio. Però per la rivolta ho sentito che era una persona che veniva dal futuro, insomma, che abitava già un altro tempo e che stava dicendo una cosa che forse era vera. Ho avuto questa percezione. E quindi io credo che adesso comincerà, si sa, in autunno, in autunno inoltrato, una grande campagna di tutte le grandi case editrici per mandare su iPad tutti i libri elettronici e credo che nella scuola è inevitabilmente, è inevitabile che sarà questo il futuro, insomma. Noi siamo assolutamente favorevoli, anzi, noi siamo sponsor di questa iniziativa, grazie a questo preside molto creativo, a cui veramente bisogna dire grazie di questa sua creatività. Oltretutto, voglio aggiungere, è un preside che apre la scuola al dibattito di tutte le problematiche esterne. Ecco, ci sono anche nel sud veramente degli esempi molto importanti, soprattutto da un punto di vista della formazione e della cultura. Quindi detto ciò, ma questo sarà il futuro. Ora, come al solito noi andiamo a passo di l'ubacca. Oltretutto al vantaggio, diciamo, di abituare i ragazzi anche all'uso del computer. Esattamente, e questo è il futuro. Lo sanno male, ma questo per quanto riguarda l'editoria elettronica, chiamiamola così, è il futuro. Certo, non sarà la fine del libro scritto, anch'io sono innamorato del libro scritto.